Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo a Electronic Arts Launcher sul Desktop che ovviamente non si apre, quindi in questo caso per risolvere il suo problema vanno cancellate le cache, va ripristinato così Electronic Arts e poi una volta fatto vanno fatte alcune modifiche nella sua proprietà, ok? Quindi iniziamo prima ad andare su EA, Electronic Arts, mostra altre opzioni, proprietà e vai sulla compatibilità se in questo caso io ovviamente avvio sempre questo programma come esegui il programma in modalità compatibilità per Windows Vista Service Pack 1 e mi funziona modifica impostazioni per tutti gli utenti disabilita l'ottimitazione schermo intero ed esegui questo programma sempre come amministratore lo fai anche qui, esegui il programma in modalità compatibilità per Windows Vista Service Pack 1, fai applica e fai ok una volta fatto non ci resta che andare di nuovo su proprietà e fare una cosa sulla sicurezza tipo se in questo caso non hai il permesso di aprire questo programma significa che gli altri permessi ce li hanno gli altri utenti quindi in alto a destro ho fatto anche un tutorial che uscirà nelle schede su come diventare amministratore completo, avere l'accesso completo al PC quindi come puoi vedere questo è il mio account e se vado a fare modifica vado a mettere il controllo completo a Tony Game 17 faccio consenti tutto e faccio applica lo faccio a tutti gli amministratori del computer che sono io e basta controllo completo e consenti a tutti e fai ok lo fai con tutti gli utenti e facciamo ok una volta fatto quello che ci resta da fare è andare sul sulla schedina esegui per cento local app data per cento fai ok e andiamo a cancellare la cartella è a desktop ovviamente prima di cancellare queste cartelle ti consiglio di chiudere electronic cards è a launcher helper electronic cards ti cancelli definitivamente svuoti il cestino chiudi qua una volta fatto quello che ti consiglio di fare è prima di avviare electronic cards è riavviare il sistema tu riavvii il sistema ritorni sul desktop e se ci sono ancora quelle cartelle nella cartella app data tu cancella di nuovo quelle cartelle e poi apri il programma esegui come amministratore e facciamo sì me l'ha chiesto due volte di aprire electronic cards e vediamo se si avvia una volta cancellate le cache ti chiederà di nuovo di inserire i tuoi credenziali il tuo account e io accedo direttamente con il mio account google ed eccolo qua electronic cards si è aperto senza nessun problema di crash apri automaticamente e appa all'avvio no aggiornamenti dell'applicazione si attiva i servizi in background no quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema all'avvio di electronic cards sul desktop iscriviti e lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao